Dipendente infedele di una ditta di lavorazione di metalli a Campo San Piero, un 51enne di Massanzago, sempre della provincia di Padova, è stato denunciato per furto dai carabinieri del capoluogo dell'Alta Padovana perché, in combutta con un autotrasportatore 53enne di mestre, rubava bancali dall'azienda in cui lavorava. Gli uomini dell'arma li hanno colti sul fatto, mentre caricavano sul camion del mestrino, 630 pedane di legno del valore di 6.300 euro, senza l'autorizzazione della proprietà. Dalle prime indagini è emerso che non fosse la prima volta, anzi i furti erano già iniziati nel 2021 e il valore complessivo si aggira attorno ai 63.000 euro. Indagato anche un terzo complice, un 48enne di San Martino di Lupari, titolare di un'azienda di imballaggi considerato il ricettatore della merce rubata.